Ok, fatevi entrare nella parte Va bene Saluto Cino e Derni, qua minima ad un micro Vi ringrazio per avermi onorato col vostro invito Saluto l'insonne pubblico di Webnotte Questo qua i reporti, notizie rappate forti Il sacrificio di Cristo era per Adamo e Deva Non Adamo e Deva Risto Minchia con la bocca piena Uè bella, questo reporti so, rella E per ogni presidente che ha pensato Oh merda, che sberla Una mano al cielo, per favore Una mano al cielo Se, se, se Dietro uno schermo visto morire molta gente Ma il video di Parigi con quel povero agente Mi ha fatto un'impressione Come ti sembrava quella roba lì? Quella recita? Eh, particolare, no Particolare Tutto under control Sai quanto gli do? Quanto? Cinque mila al mese Cosa? Ogni mese Sai invece che parola ha continuato a circolare Ok Eh, cazzo Eh, avevo la patatina Tra i più visitati al mondo Non lo sai Che nei primi cento Noi ne abbiamo solo sei Il nostro number one È il numero 26 Mentre il vero number one Fa le mostre su Pompei Dai A un certo punto del parcheggio Sento urla Sono arrivati gli ultra Il risultato è che i Ghedafi vengono ucciso Non c'è più E i barili di petrolio nostri sono andati giù Il risultato è che i Ghedafi vengono ucciso Non c'è più Cazzo ridi E cazzo ridi Non esiste più sta scusa ridi No, ma io non posso fare con uno che mi ride niente Cosa c'è? I capelli? No, c'è una ciuffo maglierino E sti cazzi Al nord è un inferno Al sud è moderno Al sud hanno il greggio E su stanno peggio Perché è là Che detta legge col fuoco Fuoco a ra Ma il progetto si trinse di nero Sterminarono il popolo armeno Su così nel 50 Con i giovani tutti nella G7 Per cambiare il mondo Ma che obiettivo nobile Sta qui la differenza dal salone del mobile Expo non è solo business È solidarietà Dalla coscia Amo finito Buongiorno Buongiorno Buongiorno